Ma no, fai sasso, carta, forbici, cic cic Ragazzi io vi ho tagliato quindi inizio io Ciao Oh no, non spiegare Bambini, allora oggi volevamo farvi vedere come si aprono le uova dalla vita di giungla Che è sempre dei dolci preziosi Sapete cosa ha fatto bimbi? Vedi Pietro, Simone vedi? Vedi che ci sono qua le uova? Sono 6 uova E io le ho nascoste qua intorno a voi Fluscami Allora facciamo forbici salto Vediamo che vince Vince, quello cerca per primo l'uovo Vai, vieni qua Sasso, carta, forbici Oh oh Sasso, carta, forbici Ma no, fai sasso, carta, forbici Cic cic Ragazzi io vi ho tagliato quindi inizio io Io voglio aprire e cercare Uno ne posso più Oh oh Io ho trovato questo Lo apro? Sì Sì? Facciamo Io lo apro Però non guardo cosa c'è dentro Chiudo gli occhi E te cerchi di scrivermelo Va bene, così lo indovino Dai, sposta Ci ho provato Allora io guardo che cosa c'è dentro Tu guardi cosa c'è dentro Io non guardo Tu puoi guardare Lui me lo descrive E io lo faccio indovino E tu se io lo faccio Se io lo indovino Tu mi fai così con la testa Se io sbaglio mi fai così Va bene? Sì Com'è? Allora È un animale? È un animale Ha l'acqua da lunga? No Cammina su due zampe? Delle volte sì A volte no È un guro? No È una scimmia? È È una scimmia? No È un gorilla È un gorilla Fa vedere Fa vedere la gorilla È giocata La gorilla Adesso sei tu Perché partiamo alla mia sinistra Facciamo così Vai Dove lo trovi? Lo trovi un cioccolatino? No L'hai trovata Fa vedere Fa vedere ai bambini Che c'è lì? Penguin No Chi è questa energy force? È anche È anche È distruggere È Energy force Oddio Ma l'hai distrutto Solo con un dito Ma quante cose hai Simone? Ma quanto è cioccolatino? Non devi vedere Non devi vedere Non devi vedere Deve fare una cosa Non so Allora Fammi le domande È rosso? No Non si che è rosso Sì dai è rosso È perché lui ha visto Va bene Ma chi è? È anche rosso Come si chiama? Red È indovinato tutto Pip pip Fa vedere ai bambini Cosa hai trovato Tocca a me Tocca a te Trovato Tocca a te Dai 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 uno Fa vedere Cosa c'è? Chi è? Mi tagliare Dai Tadam Eh lui non vuole distruggere la cioccolata Solo noi l'abbiamo distrutta Guarda 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 Ma è vero? Vai Non guardare Fai le domande Allora È un animale peloso? Tanti peli non ce l'ha Pelone ha un po' Abbastanza Non c'è quello della Un uccello di cammina Bisogna Fammi vedere Fammi vedere Non è Non è un uccello No Non è un uccello Non è Ho capito Ho capito Credo di aver capito Chi è? È un pipistrello Sì È quello femmina Fa vedere Fa vedere Fa vedere ai bambini Fa vedere Fa vedere ai bambini Ah ma quanto è bello Anch'io voglio diventare un pipistrello Così voglio dove mi pare Vado in tutti i paesi Che mi piace Ha le unghie Ha le unghie Anch'io le unghie Hai visto? Ma io sono più corte Ma non ti sembrano più corte? Bambini A voi mi sembrano più corte Le sue o le mie? Ah ma queste qua Sono tutte dita Adesso Pam 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 Io direi che basta Per oggi State mangiando Troppa cioccolata Ma io te lo manco Basta basta Io sento Sto cioccolata Ma comunque Mi raccomando Scrivete nei commenti Cosa avete trovato voi Nelle uova dei dolci preziosi E commentate Ciao ciao bambini Ciao 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 Ciao